buongiorno ragazzi io sono mister hobby e company benvenuto in questo nostro nuovo video oggi facciamo la seconda parte dell'aereo crashato in tre quattro pezzi che io ho curato con del nastro isolante o meglio scotch da pacchi carta incollante carta incollante vediamo se il modello dopo due giorni è guarito da solo vediamo nick seguiteci rimanete connessi mi raccomando e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto che ragazzi indossiamo gli occhiali dell'aereo modellista incollati con l'attac se non ci credete avvicina di nick guardate riparazione con attacche le stecche sono praticamente indistruttibili e dopo facciamo un tutorial anche per questo ragazzi ecco quel modello sembra solido sembra solido vediamo se è guarito prendiamo togliamo lo scotch la carta incollante ecco qua ragazzi appallottiamo la carta incollante mi mando sporchiamo a terra fra poco il presidente fin di scritta Gigi ho sporcato a terra guardo ragazzi abbiamo scoperto che se sta si pinza va bene mettermi dentro ok ragazzi guardate l'aereo è duro non duro che facciamo facciamo questo con l'auto ok ragazzi rimanete connessi in questo video che adesso connotiamo l'aereo seguiteci ragazzi questo è l'aereo spezzato in due anzi in tre o in quattro bu siamo pronti per il con l'auto dovrebbe volare abbiamo appena tolto lo scotch curativo e adesso andiamo in volo vola ragazzi fate come mister hobby come vola 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 ma siamo sicuri che non si spezza in volo c'è un autofocus il mio telefono che alla fine del mondo e vola vola ma pure il ruolo rovescio attenzione ancora si sta calata dove sta attenzione a mister hobby deve fare ancora 3500 video c'è un autofocus proprio mattia il tuo telefono ha un focus migliore si ma l'aereo regge mai usato del bicomponente si 150 grammi 150 grammi in più ma il motore però svirgo un po' dai ma forse sono i primi atterriamo si si bravo a nick il nostro sprint pilotti fpv che ha riparato il suo modello ok ragazzi tutto ok per questo sonic della phonics model riparato con lo scorcio avete visto la parte 1 del video questo è stato in dalla parte 2 mi raccomando se non l'avete fatto ancora iscrivetevi ai nostri canali e spuntate sulla campanellina link in descrizione c'è il pirata che sta volando con l'intrusodrone come si dice inglese intruderdone insomma vedi che la radio ti suona il pirata però non mi frega niente diciamo è tutto normale ok ragazzi per adesso è tutto mi raccomando ci vediamo al nostro prossimo video ciao a tutti da mister hobby e compagnie aspetto la radio no il motore aspetto il motore ora fra poco il modello si distrugge in volo ok noi in volo a terra ok ciao ragazzi ciao